Il gruppo Cimbali è leader nel settore delle attrezzature da bar, macchine per caffè espresso e macchine ad osatori. Con i brand La Cimbali e Faema si presenta Cigep con uno stand che ha presentato tutte le novità di prodotto dei due brand. È uno spazio di brand e di prodotto a disposizione del Seis e di tutti i nostri distributori che ci sono venuti a visitare da tutto il mondo. Il brand La Cimbali ha presentato la nuova versione di M26TE che va a completare la gamma della M26, mentre il brand Faema ha presentato una nuova versione della macchina Teorema con delle finiture in legno e dei dettagli che strizzano l'occhio alle nuove tendenze della caffetteria. Inoltre la Cimbali ha portato qui la gamma delle superautomatiche S20 ed S30, importanti soprattutto per i nostri mercati esteri. Le attività sullo stand sono state svolte in collaborazione con i trainer di Mumac Academy. Il gruppo Cimbali infatti da diversi anni ha una propria accademia di formazione rivolta a distributori e utilizzatori finali per lavorare insieme ad ampliare la cultura caffè. Facciamo corsi di formazione sulle attrezzature e sul mondo del caffè in generale, dalle origini del caffè fino al prodotto finale del nostro caffè espresso in tazza, oltre a corsi di latte art. In questi giorni campioni internazionali di latte art, di coffee in good spirits, di brewing si sono alternati nel nostro spazio e hanno coinvolto anche i visitatori da tutto il mondo con attività ad hoc. Abbiamo ospitato un campione di latte art greco, secondo classificato al mondiale di quest'anno, un campione italiano di coffee in good spirits che ci ha deliziato con cocktail a base di caffè e di alcol. Inoltre, grazie alla collaborazione con i nostri clienti micro roaster italiani ed internazionali, abbiamo potuto assaggiare caffè in monorigini provenienti da tutti i paesi di origine del caffè, coinvolgendo i visitatori nell'assaggio alla brasiliana che è sempre molto interessante e molto apprezzata dagli addetti ai lavori e non solo. La Fiera Sijep è stata per noi l'occasione anche di far testare e far provare ai baristi italiani la nuova Faema E71E, la macchina ufficiale del campionato italiani baristi. Il vincitore ora volerà a Boston per la finale dei campionati del mondo. La Fiera Sijep è stata per noi.